Ciao ragazze, allora no, non sono impazzita perché ho mezza testa liscia, mezza testa riccia in realtà questa è una prova su strada, un... questo cosa funziona davvero e quindi una specie di review su questo prodotto dell'Ace Vivi o Ace Vivi, insomma non so se pronunciarlo all'italiana, all'americana ed è praticamente un prodotto che io ho sognato da sempre perché chi ha i capelli crespi o magari anche ricci forse anche più di me sogna da sempre una spazzola in grado di lisciarti i capelli perché è impossibile, cioè il parrucchiere riesce a farlo, ok, ma per ogni donna e almeno per me è matematicamente impossibile riuscire a tenere con una mano il phon, con l'altra la spazzola e lisciare i capelli così cioè è una vita che ci provo e non è possibile, quindi oggi proveremo questo prodotto che è appunto una spazzola lisciante cioè è una spazzola, tra l'altro è rosa, notare, io queste cose le noto subito, il fatto che sia rosa è il clou e quindi noteremo, cioè verificheremo se questa spazzola effettivamente insomma liscia i capelli come funziona, vi parlerò del funzionamento eccetera eccetera e quindi ho pensato bene di partire con mezza testa riccia per vedere su, perché insomma io sono liscia quindi non avrebbe tanto senso Nicole, quindi mi sono detto ok proviamo a vedere come viene, cioè passando il risultato insomma mi capite com'è il risultato sulla metà dei capelli riccia e poi vedremo anche il risultato sulla metà dei capelli liscia ma sono così lavati, non ci ho fatto niente, quindi magari riesce a togliermi un po' più di crespo insomma vediamo il risultato viene, dovrebbero anche se sono già lisci dovrebbero risultare più setosi, più morbidi quindi vorrei iniziare, proviamo a fare questa prova, vediamo come va pronta, vediamo la prima ciocca come esce, c'è scritto di andare piano e di non prendere troppi capelli ma io non riscio perché insomma troppi capelli per me è una cosa inesistente beh devo dire che mi ha lisciato questa ciocca senza problemi chiaramente i miei capelli non sono ricci naturalmente ma insomma oggi li ho ricciati per questo esperimento vediamo come procedere la seconda ciocca oddio sono pure troppo lisci c'è proviamo con questi ricciolini qua sotto ok ora voglio provare quest'altro lato senza però selezionare delle ciocca quindi vado semplicemente a pettinarli così quindi direi che per funzionare funziona perché questo lato che era riccio è praticamente veramente più dritto di così non si può anzi sono pure veramente troppo dritti nel senso che io ho bisogno di volume altrimenti sembro calva quindi l'altro lato invece parliamo dell'altro lato allora non si vede nessun tipo di differenza sui miei capelli perché naturalmente sono lisci come spaghi quindi qua non si scappa però devo dire che sento la differenza toccandoli quindi al tatto li sento molto più morbidi e più setosi quindi questa è una cosa che mi piace molto anche perché non bisogna stare cioè come avete visto non è che dovevo stare troppo tempo lì appunto a passare il calore sui capelli perché insomma si sa che il calore sui capelli non è che faccia malissimo però non è che fa proprio benissimo insomma se lo usiamo con cautela eccetera quindi però insomma è una cosa molto molto positiva anche perché molto spesso se c'è tanta umilità nell'aria eccetera eccetera di solito li liscio magari faccio un paio di colpi di spazzola con il phon adesso posso usare tranquillamente questo prodotto quindi questo è stato un'ottima scoperta l'unica nota negativa direi è uno che ci mette qualche minuto per scaldarsi completamente il che non è che sia poi non lo so non è un problema però dico che ultimamente i prodotti si scaldano molto molto in fretta quindi mi aspettavo che si scaldasse un pochino più in fretta però insomma questa è veramente una stupidaggine e poi forse appunto bisogna stare attenti questa non è una nota negativa però bisogna stare attenti a non alzare troppo la temperatura perché va fino a 210 gradi che è veramente tantissimo quindi insomma se la usate o questo o qualsiasi altro tipo di spazzola lisciante spiastre eccetera utilizzate una temperatura che non sia così alta insomma una via di mezzo provate magari prima quindi ragazzi ragazze questo era il mio review chiamiamolo così su questo prodotto nuovissimo dell'ace vivi eccolo qua mi piace come prodotto devo dire in conclusione mi piace il fatto che appunto con pochissime passate i capelli siano lisci se già li ho lisci sono molto più morbidi molto più setosi ed è quindi sicuramente un'ottima alternativa appunto all'impazzire lì con spazzola fone eccetera eccetera che è impossibile quindi questo è tutto vi mando un bacione spero vi sia piaciuto il video alla prossima ciao 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 ciao